Dopo vent'anni a Pozzallo si lavora al piano regolatore generale della città, ad annunciarlo la nuova amministrazione a Matuna che comunica che la nuova bozza di revisione del PRG è stata trasmessa al Presidente del Consiglio. Il piano risale all'ottobre del 1989, adesso si ritorna a parlare dell'importante strumento urbanistico, anche se l'iter burocratico per la sua definitiva approvazione è ancora lungo. Il prossimo passo sarà la convocazione della conferenza dei capigruppo consigliari e dell'apposita commissione, dopodiché potrà avviarsi la discussione in Consiglio Comunale. L'invio dell'importante strumento regolatore dell'attività edilizia della città era uno dei punti principali del programma politico della nuova giunta guidata da Roberta Matuna, alla quale la città ha scelto di affidarsi nelle scorse amministrative. Abbiamo anticipato i tempi, riuscendo a trasmettere la bozza di revisione a fine agosto, dichiara soddisfatto il primo cittadino. Ora ci auguriamo una rapida discussione e tempi brevi per la sua adozione. Nelle prossime settimane la giunta municipale dovrebbe approvare anche il nuovo capitolato d'appalto del servizio di igiene pubblica, la promessa dell'amministrazione, un risparmio sulla tassa dei rifiuti, avviando l'iter burocratico per la gara d'appalto per l'importante servizio. Grazie a tutti.